Se questo trend va avanti così, già da domani potremmo dire che l'Abruzzo rientra pienamente in tutti i parametri che lo classificano come una regione con uno scenario 1, scenario di basso rischio, che è quello compatibile con le zone gialle. Segnalo che ci sono in tutte queste parametri la graduatoria, chiamiamola così, tra le regioni, colloca l'Abruzzo esattamente nella media nazionale, esattamente a metà classifica, in quello delle occupazioni dei posti letto di terapia intensiva, anche nella parte bassa della classifica, vuol dire che ci sono molte più regioni che hanno un tasso di occupazione superiore al nostro di quante ne abbiano minore del nostro e quindi il fatto che l'Abruzzo debba essere considerata l'ultima invece ad accedere alla zona gialla, quando le regioni che sono già da qualche giorno, da quasi una settimana in zona gialla, hanno numeri molto più alti dei nostri e in questi indicatori fa capire come sia ragionevole la nostra pretesa nei confronti del Governo di essere giudicati non per il numero dei giorni e per una burocratica osservanza di un calendario che non è imposto dalle tavole della legge ma da un meccanismo umano come tale perfettibile e con qualche difetto da correggere ma di adeguare il trattamento e le discipline vigenti nella nostra regione sulla base dei dati reali.